CURR è il nostro slogan e mi fa piacere vedere che ci siano i cartelloni in tutta Napoli e che finalmente la DJ Ten arrivi a Napoli che questo sia un inizio per la DJ Ten Famiglie da bambini in bicicletta c'è chi si porta il cane ci sono una quantità di sfumature possibili per interpretare la corsa e non bisogna farlo con agonismo bisogna farlo con divertimento e con voglia di partecipare senza necessariamente fare fatica Partirà da Piazza Plebiscito alle 9.30 di domenica 10 settembre la tappa napoletana della DJ Ten la corsa non agonistica ideata dal conduttore radiofonico Linus è presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo Sono previste una gara da 10 km e una da 5 km con due diversi percorsi che si snodano nel centro storico della città la manifestazione al patrocinio del Comune di Napoli Napoli si sta lanciando in questa sfida a diventare capitale europea dello sport 2026 e quindi anche questa maratona farà anzi sicuramente lustro Napoli adesso è gettonatissima quindi dovrete tornarci ogni anno sicuramente perché quello che sarà la nostra ospitalità e soprattutto le prestazioni che i napoletani avranno in questa maratona vi indurranno sicuramente a tornare perché noi è vero che siamo arrivati tardi ma come lo faremo a Napoli non l'abbiamo mai fatto da nessun'altra parte omaggio ai napoletani e la maglietta realizzata per l'occasione in azzurro col numero 10 in evidenza che celebra Diego Armando Maradona è possibile ancora iscriversi alla DJ Ten sulla pagina web www.djten.dj.it dai primi 100 veni rando ciao grazie a tutti